A tutti voi buonasera dal Tg Max, primo passaggio in regione della vertenza onda. Oggi una delegazione di sindaci e rappresentanti sindacali è stata ricevuta dal presidente Chiodi in prima commissione bilancio. Ieri l'incontro presso la sede del patto Sangroaventino, oggi la convocazione in prima commissione bilancio all'Aquila. La vertenza onda approda in regione. Una delegazione di sindaci e rappresentanti sindacali è stata ricevuta dal governatore Chiodi, dal presidente del Consiglio Pagano e dal presidente della commissione bilancio Nasuti. Le richieste sono quelle contenute nel documento unitario sottoscritto ieri, completare le infrastrutture a servizio della zona industriale e aumentare la competitività del territorio. L'impegno che mi assumo, ha dichiarato Nasuti, è quello di investire il Consiglio regionale del problema e di mettere subito in campo i fondi FAS. Certo la onda oggi rappresenta una preoccupazione per i tanti perché oltre alla situazione diretta c'è tutto un mondo dell'indotto intorno, quindi parliamo di circa 2000 persone che gravitano intorno a questo sistema. Non possiamo assolutamente rallentare la nostra azione, anzi da oggi parte un faro puntato sulla problematica, conto insieme anche al collega De Fanis di stabilire un tavolo permanente sulla zona per monitorare queste problematiche e soprattutto dare risposte veloci, stringenti e che diano e rasserinano anche le menti dei tanti operai che quotidianamente vivono di questo lavoro. Proprio oggi il Consiglio regionale straordinario convocato per discutere della crisi industriale in Abruzzo ha approvato un documento che impegna il Presidente Chiodi e la Giunta regionale a verificare in presenza di progettualità concreta e condivisa con il territorio le possibilità di un efficace utilizzo delle risorse FAS per le aree industriali e di crisi. Nel testo si chiede di destinare una quota dei FAS allo sviluppo di un sistema di portualità integrata vasto-ortona e di predisporre un collegamento ferroviario tra le aree industriali delle versanti abruzzese e il Tirreno. Una maggioranza incapace produce cose inutili. Il centrodestra di fronte al Consiglio straordinario sulla crisi industriale che riguarda migliaia di famiglie si è presentato con un foglietto di carta inutile, generico, direi immorale rispetto alla gravità della crisi. Lo ha detto il capogruppo del PD Camilo D'Alessandro, il documento è stato approvato con i voti della sola maggioranza. Nella nota ad Alessandro cita anche l'intervento del presidente della quarta commissione Nicola Argirò che ha definito debole il documento della maggioranza non potendo difendere l'indifendibile. Noi, spiega ad Alessandro, abbiamo chiesto di assumere decisioni a partire dalla esigenza di aprire un confronto con Roma a riprogrammare il FAS, a stabilire un rapporto diretto con le aziende in crisi. Ma per il centrodestra va tutto bene, ha concluso D'Alessandro. Tanto loro a fine mese lo stipendio lo prendono. E siamo alla cronaca, il corpo di una ballerina slovacca di 31 anni è stato trovato senza vita nella stanza da letto del suo appartamento in via Battisia d'Albadriatica. A fare la scoperta è stata la proprietaria dell'alloggio insospettita dal fatto che il cagnolino della ragazza fosse rimasto tutta la giornata sul balconcino ad abbaiare. La proprietaria ha così deciso di aprire l'appartamento intorno all'una della scorsa notte. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e i carabinieri per il medico del 118. La donna sarebbe deciduta per infarto del miocardio ed edema polmonare, ma sarà l'autopsia a stabilirlo. La morte sarebbe avvenuta nel sonno. I carabinieri non hanno riscontrato segni di violenza sul corpo né di effrazione, ma hanno trovato sostanze riconducibili agli stupefacenti che sono state prelevate per essere analizzate. La spending review intacca anche i fondi destinati a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'emergenza neve. Anci e parlamentari abruzzesi chiedono al governo una revisione dello stanziamento. Un'azione sinergica a Regione Anci e parlamentari abruzzesi sarà attuata nei confronti del governo attraverso la conferenza unificata e sul Presidente della Commissione Bilancio del Senato nel tentativo di una revisione dello stanziamento per l'emergenza neve. Dai dati in possesso del Dipartimento della Protezione Civile Regionale risulta che la cifra rendi condata a livello nazionale pari a 391 milioni di euro, ma nel decreto sulla spending review si prevede un ristoro complessivo delle regioni che non supera i 9 milioni di euro, tradotto in cifre ipotizzando un riparto tra tutte le regioni colpite, all'Abruzzo potrebbero essere assegnati non più di 280 mila euro a fronte di una spesa rendi condata di 22 milioni. Nel corso del tavolo convocato dal Presidente Chiodi e dall'Assessore Giuliante, aperto ai rappresentanti degli enti locali, ai consiglieri e ai parlamentari, è stata unanime la valutazione sulla oggettiva insufficienza della cifra ipotizzata. Nello Stato Regioni, convocata durante l'emergenza, ricordato Chiodi, il Governo assunse l'impegno di voler sostenere tutte le spese derivanti dalla copertura dell'emergenza, escluso il ristoro dei danni. Sulla base di questo impegno le stesse prefetture emisero ordinanze che sollecitavano i sindaci ad intervenire con somma urgenza. È chiaro che a fronte di un tale impegno sono stati sopportati i costi che sulla base delle cifre venute fuori dalla spending review rischiano di avere serie ripercussioni sui bilanci dei comuni. Il tavolo ha quindi deciso di attivare iniziative su più livelli, quello regionale proponendo in Consiglio regionale la votazione all'unanimità di un ordine del giorno, la richiesta della conferenza unificata allargata anche al sistema delle rappresentanze locali, una vasta azione sui deputati delle altre regioni affinché si agisca in sede di conversione in legge del decreto. Vende Ascish ad una sedicenne, arrestato un 27enne campano residente ad Alba Adriatica. Gli agenti del reparto prevenzione e crimine di Pescara e della questura di Teramo lo hanno bloccato nei pressi del ponte di legno della pista ciclabile di Alba Adriatica mentre si appartava con la ragazza. Antonio Izzo era stato notato dai poliziotti mentre nascondeva negli slip una banconota da 50 euro consegnata dalla giovane che in cambio aveva ricevuto un involucro con 5 grammi di Ascish. L'identificazione dei due ha permesso di scoprire che la ragazza ha 16 anni e che non era la prima volta che si riforniva dal giovane. Nel marsupio Izzo nascondeva un grammo di marijuana mentre nell'abitazione sono stati trovati quasi mezzo chilo di marijuana e 70 grammi di Ascish. Secondo gli investigatori il giovane con precedenti specifici sarebbe il punto di riferimento per lo spaccio nella zona soprattutto a minorenni. La sedicenne è stata affidata ai genitori e segnalata al prefetto per uso personale di stupefacenti. Le tasse vanno pagate, valuteremo un ritocco delle aliquote IMU e DICI dopo la prima tranche di pagamenti. Lo ha dichiarato il sindaco di Lanciano Mario Pupillo dopo la protesta organizzata da Verdi sotto Palazzo di Città. I cittadini di Lanciano pagano troppe tasse l'amministrazione comunale dovrebbe abbassarle e concedere maggiori dilazioni considerando la forte crisi che stiamo ancora vivendo. Queste in sostanza le richieste alla base della protesta promossa sabato scorso sotto Palazzo di Città dai Verdi. Oggi la risposta del sindaco Mario Pupillo Come i cittadini e le forze di governo sanno bene abbiamo ereditato un piano regolatore con scelte ben precise. I cittadini che oggi si lamentano di pagare l'IMU su terreni inutilizzabili o vincolati avrebbero dovuto vigilare e presentare le osservazioni in tempo utile e pagare quanto dovuto negli anni precedenti. Pupillo però non esclude che le aliquote possano essere abbassate per la tranche autunnale. Che il Comune vedrà quali sono le entrate dell'IMU, dell'ICI in questa prima tranche e poi saremo molto attenti e disponibilissimi a ritoccare queste aliquote se nel mese di agosto facendo i calcoli noi possiamo alleggerire la pressione fiscale perché chiaramente sappiamo qual è il momento estremamente difficile. Il sindaco chiarisce anche la questione fondi per lo stadio Biondi. I cittadini di Lanciano non pagheranno un euro per i lavori di adeguamento. I soldi saranno reperiti attraverso il recupero degli affitti che la società non ha mai versato negli ultimi dieci anni, circa 100.000 euro e l'accensione di un mutuo che verrà pagato con il versamento dell'affitto a 20.000 euro l'anno che la società sportiva verserà al Comune. Lo stadio si deve fare perché per Lanciano la Serie B è un evento straordinario, storico, mediatico che sicuramente avrà dai riflessi anche economici perché il calcio muove economia. Abbiamo potuto fare così con una clausola che nel decreto spending review è uscita proprio la settimana scorsa che ci permette di accendere questo mutuo. Questo mutuo non lo pagheranno i cittadini di Lanciano, questo mutuo verrà pagato attraverso il canone affittuario che la società dovrà pagare all'amministrazione. Quindi è una partita di giro, non è che noi stiamo mettendo i soldi facendoli pagare con l'Imo o con le altre trasse ai cittadini. Quindi su questo i cittadini devono stare tranquilli. Il giudice monocratico di Lanciano ha condannato due lancianesi per una serie di truffe su eBay, 80 alle persone coinvolte in tutta Italia. Claudio Marcheggiano, 40 anni, è stato condannato a tre anni di reclusione a una multa di 600 euro. Alessandro Mastrangelo, 39 anni, ha un anno e quattro mesi e 200 euro di multa appena sospesa. Nel 2009 gli acquirenti ordinarono e pagarono attraverso bonifico bancario, cellulari, macchine fotografiche, computer, televisori ed altri pezzi elettronici per circa 50 mila euro senza ricevere alcuna merce. Gli ordinativi erano stati fatti alla inesistente ditta digi elettronica attraverso il sito eBay. Una 32enne di origini napoletane ma residente a Mozzagrogna e già nota alle forze dell'ordine è stata arrestata perché è in possesso di 35 grammi di hashish. Il panetto è stato rinvenuto nella sua abitazione dai carabinieri di Lanciano. Trovate anche pezzi di stagnola con evidenti tracce di eroina che la giovane aveva fumato. Dopo le formalità di rito, Angela Di Mauro è stata rinchiusa nel carcere di Chieti. Ed ora ci spostiamo a Vasto dove il sindaco Lapenna ha emesso un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a Motta Grossa per sversamenti anomali a Punta Derci. Di vieto temporaneo di balneazione in un ampio tratto della spiaggia di Motta Grossa all'altezza del Fosso della Paurosa l'ha disposto attraverso la firma di una specifica ordinanza il sindaco di Vasto Luciano Lapenna sulla base della comunicazione dei risultati dei prelievi eseguiti in mare dall'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela ambientale. Il tratto di mare interessato è di complessivi 2,6 chilometri, 1,7 chilometri a nord e 900 metri a sud del punto di prelievo. Già nelle settimane passate per pochi giorni era scattata una simile restrizione da verificare la causa riconducibile a sversamenti anomali che hanno provocato il superamento dei limiti di tollerabilità. La data del prelievo è del 12 luglio. A cura del personale del settore servizi del Comune verranno sistemati appositi cartelli che indicheranno ai tanti bagnanti che frequentano uno dei posti più selvaggi apprezzati della costa vastese nell'area della riserva naturale di Punta Derci la presenza del divieto di balneazione. Dopo 5 ore di intenso lavoro è stato spento l'incendio che ha interessato un ampio tratto a confine tra i territori di Vasto e San Salvo. Le fiamme hanno raggiunto anche il tratto autostradale della 14 con il traffico che è stato bloccato per circa due ore oltre alla strada provinciale Vasto-San Salvo. L'ampiezza del fronte delle fiamme ha costretto l'intervento della protezione civile di Vasto e dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto a cui si sono aggiunte le squadre di Ortona a Termoli e volontari di Gissi. Sono intervenuti anche gli uomini della Forestale e altri gruppi della protezione civile Valtrigno e Arcobaleno di San Salvo. In azione è anche un mezzo aereo della protezione civile che ha scaricato liquido estinguente. Sono due i progetti di ricerca abruzzesi che riceveranno finanziamenti dalla Fondazione Teleton per le malattie genetiche. Uno è del Consorzio Mario Negri Sud e l'altro dell'Università di L'Aquila. La Commissione Medico-Scientifica Internazionale della Fondazione Teleton ha assegnato i fondi 2012 per le malattie genetiche a due progetti di ricerca abruzzesi. Il finanziamento di 275 mila euro andrà al progetto di Silvia Bisti dell'Università di L'Aquila e al progetto di Michele Sallese del Consorzio Mario Negri Sud. Salgono così a 5,9 milioni di euro i fondi totali stanziati ad oggi da Teleton nella regione. Proprio lo scorso maggio per la prima volta si è svolta a Lanciano una delle otto mini-maratoni Teleton a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche. La ricercatrice Bisti dell'Università Aquilana prenderà parte a un progetto multicentrico coordinato dal Politecnico di Milano dall'obiettivo molto ambizioso creare materiali artificiali che possano sostituire i tessuti umani. Il progetto mira a curare forme di cecità ereditaria come la retinite pigmentosa grazie a una vera e propria retina artificiale. Si tratta di un'interfaccia tra le cellule nervose del paziente e un materiale organico semiconduttore in grado di captare gli impulsi luminosi convertirli in corrente elettrica e attivare così i neuroni mimando il processo naturale della visione. L'altro progetto abruzzese finanziato è quello coordinato da Michele Sallese del Consorzio Negri Sud che in collaborazione con Roberto Chiesa dell'Istituto Negri di Milano approfondirà i meccanismi molecolari di una rarissima malattia neuromuscolare di origine genetica la sindrome di Marinesco-Sjogren. Già nei primi anni di vita questa sindrome si manifesta con difficoltà di coordinazione dei movimenti e del linguaggio, debolezza muscolare che impedisce di sostenersi e camminare in modo autonomo, frequente cataratta congenita bilaterale. Obiettivo dei ricercatori Teleton è fare luce sui meccanismi molecolari della malattia ancora in gran parte oscuri. Recentemente è stato dimostrato che la maggior parte dei pazienti presenta un difetto a carico di un gene chiamato SIL1 che porta alla morte particolare in neuroni del cervelletto ma non si sa ancora come e perché questo avvenga. Studiare come i difetti in questo gene provocano la sindrome potrà essere utile non solo per individuare possibili strategie terapeutiche ma anche per chiarire i meccanismi di altre patologie in cui si osserva una degenerazione degli stessi neuroni. Quest'anno, grazie a Teleton, sono stati raccolti 11.167.000 euro per la ricerca sulle malattie genetiche che consentiranno di finanziare 44 progetti rispetto ai 36 del 2011. Sono tre i vincitori ex-eco premiati dalla Camera di Commercio di Pescara per la quarta edizione di Emergie, la manifestazione dedicata all'energia da fonti rinnovabili e alla efficienza energetica. La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara ha istituito un premio per evidenziare l'impegno e la capacità progettuale di aziende che operano nel settore dell'efficienza energetica. Un premio istituito nell'ambito della iniziativa fieristica Emergie, quest'anno giunta la quarta edizione, è dedicata alle aziende che operano nel campo delle energie da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. La giuria del premio era composta dall'ingegner Paolo Zazzini, associato di fisica tecnica nella Facoltà di Architettura di Pescara, l'ingegner Francesco Muzzi, associato di sistemi elettrici nella Facoltà di Ingegneria dell'Aquila e l'architetto Carmela Palmieri, esperta in architettura bioecologica ed efficienza energetica. La giuria ha deciso di premiare tre aziende ex equo, la Clindex per un progetto di recupero del cartone e poi un progetto di illuminazione del borgo di Vestea a LED, firmato dall'ingegner Paolo Fecondo ed il progetto dall'architetto Franco Feliciani per la realizzazione di edifici residenziali. Un premio pensato anche per lanciare un messaggio di speranza a tante aziende che operano anche nel settore delle costruzioni, come evidenzia il presidente dell'ente camerale di Pescara, Daniele Becci. C'è necessità di ottimismo, purtroppo oggi sappiamo il momento è difficile, il momento è difficile per tutti, per le aziende, per le famiglie, però noi dobbiamo avere il coraggio e lo dobbiamo fare di guardare al futuro con queste nuove tecnologie che vanno ad elevare la qualità della vita. C'è necessità anche di questo. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare nel nostro paese che dal dopoguerra fino agli anni Ottanta è cresciuto in maniera esponenziale. Oggi c'è la necessità, anche in virtù degli ultimi accadimenti, come lei ha visto i terremoti dell'Aquila, i terremoti dell'Emilia Romagna, abbiamo un patrimonio edilizio storico importantissimo, il più importante del mondo, ma questo patrimonio va tutelato, vanno tutelate anche le costruzioni create ed edificate 40 anni fa, 50 anni fa, vanno adeguate con queste nuove tecnologie che aiutano non solo la qualità della vita, ma anche la sicurezza dei cittadini. La pagina sportiva per il calciomercato, dopo le visite mediche, Marco Verratti ha firmato ufficialmente e finalmente il contratto per 5 anni con il Paris Saint-Germain. Per il giocatore, il giocatore sarà presentato nella sede del club domani mattina, il Pescara incassa 12 milioni di euro. Finalmente ufficiale, dopo essersi sottoposto alle visite mediche, Marco Verratti si è legato con un sontuoso quinquennale al Paris Saint-Germain, col Pescara che potrà contare sui 12 milioni di euro pattuiti, più due di bonus, pronti per investimenti in entrata. Il Folletto sarà presentato domattina presso la sede del club parigino. Si è conclusa così la più importante manovra di calciomercato della storia bianco-azzurra, che in pratica accontenta tutti. Il Paris Saint-Germain scatenato nel calciomercato globale, il centrocampista che ha la grande occasione della sua carriera, il Pescara con denaro cash che di questi tempi è pura rarità. Altre manovre, Rosenberg è atteso in città e lui il big prescelto per l'attacco e si conta di chiudere l'accordo in tempi rapidissimi, facendo decadere la pista floccari. Il centravanti laziale vanta infatti un ingaggio troppo alto e la Lazio per il suo cartellino vuole 5 milioni di euro. rimanendo nella capitale ma sul versante romanista è stato chiesto Leandro Greco, ottimo rinforzo di centrocampo, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto. L'operazione è a buon punto. In uscita dopo il prestito di Bacchetti a Lanciano, Luca Berardocco potrebbe accasarsi ad Empoli. Intanto si suda nella sede del ritiro a suon di Gradoni. Il tecnico Stroppa già mette infatti a dura prova i suoi, tanto per ricordare ogni tanto che si è arrivati in Serie A grazie anche ai gradoni di Zeman. In Serie B la Virtus potrebbe chiudere già domani con l'attaccante Testardi della Sampdoria. Il nome nuovo è quello del brasiliano Gabriel Appelt, scuola Juventus. Con la partenza per il ritiro ormai alle porte, Lanciano stringi tempi per permettere al tecnico Gautieri di contare sulla maggior parte dell'organico a disposizione, anche se il calciomercato rossonero andrà avanti fino al termine di agosto. Indirittura d'arrivo un attaccante con Testardi e poi Ciofani in pole position. Per Emanuele Testardi, 21 anni nella passata stagione al Siracusa di proprietà della Sampdoria, la firma potrebbe arrivare già domani. Salvatore Focchi, un'altra soluzione gradita, più difficile, quella che porta al marocchino Rashid Arma. Ciofani l'anno scorso in Serie B con il Gubbio è altra alternativa. Interessanti le trattative con la Juventus, oltre al portiere Nicola Leali, definito l'erede di Gigi Buffon, che la Virtus corteggia disperatamente, si potrebbe concludere per Gabriel Appelt, classe 1993 centrocampista mancino, di origini brasiliane e punto di forza della primavera bianconera. Già da un anno il nome di Appelt è sui tacquini dei grandi club flamenco, compreso Giovane dalle grandi speranze. Domani mattina il direttore sportivo Luca Leone sarà a Milano, nella lista degli appuntamenti, quello col Milan e col direttore sportivo Ariedo Braida, pronto a girare in prestito alla Virtus Otor, acquisto di qualità per il nuovo Lanciano, già in ritiro con la prima squadra rossonera. E ancora, Lella Sverona ha chiuso l'acquisto di Daniel Marseta, difensore di 23 anni del Copper. Il calciatore sloveno verrà probabilmente girato in comproprietà proprio al Lanciano. L'attaccante del Barletta, Fabio Mazzeo, svincolato e altro nome delle ultime ore, insieme ad un baby. Si tratta del nigeriano Sani Emanuel, classe 1992 della Lazio, protagonista al Mondiale Under 20 con la Nigeria. E poi altre trattative a decine, ma senza fretta, gli affari migliori nel calciomercato italiano si fanno infatti sempre alla fine da registrare anche un probabile ritorno di fiamma col Colored Fofana dopo il fallimento del Siracusa. domani alle 12.30 la presentazione della campagna abbonamenti presso il trabocco Punta Cavalluccio, a fare gli onori di casa. La presidentessa Valentina Mai. È tutto, vi ricordo che servizi e approfondimenti sono disponibili sul sito tgmax.it. Grazie per essere rimasti con noi, arrivederci a domani. Grazie. 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 Grazie.